Grazie a voi tutti per l'invito, gli organizzatori, i collaboratori, i promotori, insomma il sindaco e diciamo ho conosciuto qualche mese fa questa organizzazione e questi promotori e poi dopo una chiacchierata che abbiamo fatto su Web, eccomi qui, inaspettatamente. Allora, io mi sono interessato per circa 40 anni di studio di sistemi complessi, però l'ho fatto all'università e quindi come dicevo prima quando mi è preso il caffè al bar ce la siamo cantata e ce la siamo suonata tra di noi, cioè senza, per così dire, avere la possibilità di comunicare il senso e il significato di questa esperienza a un pubblico o più ampio, per cui negli ultimi tre anni ho risuscitato le mie competenze, io sono laureato in architettura, poi specializzato in ingegneria informatica e così via, ho recuperato le mie esperienze di arte, di storia dell'arte e così via e quindi oggi vi parlerò della complessità come esperienza e come l'esperienza e la complessità significa soltanto ricchezza dell'esperienza e come noi possiamo, cercando di capire come fronteggiamo la complessità, estrarre questa ricchezza dalle esperienze che facciamo nella nostra quotidianità. L'arte c'entra perché l'arte ci insegna, come vedremo ora, a gestire le esperienze complesse, questo è quello che voglio dimostrarvi ora. I tempi che mi dai Francesco quali sono? Noi in genere abbiamo 50-60 minuti di esposizione e poi apriamo il dialogo. Anche se volete interrompervi non c'è problema, anzi fa piacere se avete delle curiosità, delle domande, delle perplessità, interrompetemi e quindi con grande piacere così diventa più animato. Allora, ecco, ho voluto mostrarvi come inizio un quadro di Vermeer, la ragazza col turbante, meglio conosciuto come la ragazza con l'orecchino di perla. Abbiamo visto anche il film, ora tutto il corso, scusate il corso, tutta questa mia lezione, sono abituato a fare cosa, tutta questa mia comunicazione deve spiegarci perché questa immagine ci piace, ci comunica bellezza, ci comunica piacere. Se vi osservate bene questa immagine e vi chiedessi, ma cosa suscita in voi? Quale sensazione? Cosa sta pensando quella ragazza? Che tipo di emozione vi comunica? Io quando ho mostrato questa immagine in giro, ovviamente ho avuto una quantità di risposte diverse, per esempio mi hanno detto a questa ragazza si gira di scatto, è sorpresa, è attraente, è erotica, qualcuno ha detto, poi ha la faccia dell'innocenza, il volto dell'innocenza, è sospettosa, è soddisfatta e così via. Cioè una quantità di sensazioni diverse, tutte legittime, tutto in qualche modo, c'è sempre un appiglio in questa immagine per ognuna di queste sensazioni e questa è una cosa molto importante. Allora, quello che vorrei dimostrarvi con questa mia comunicazione oggi è che questa varietà, questa molteplicità di sensazioni è, diciamo, il trucco con cui noi poi sperimentiamo le esperienze complesse, con la differenza che con l'arte facciamo una cosa che non facciamo nella vita, cioè abbiamo, per così dire, un'esperienza simulata, in cui sperimentare le nostre abilità cognitive e quindi è come se facessi un esperimento di laboratorio. Quindi dal mio punto di vista l'arte è un laboratorio per affinare le nostre capacità cognitive ed è questo che vorrò dimostrare. Quindi vado direttamente al, salto tutte le chiacchiere, mostro sostanzialmente soltanto dipinti. Allora, se avete difficoltà a vedere, spostatevi perché così, perché non potete seguire se non osservate i quari che vi mostro. Allora, questo è un dipinto di Carrà, minimalista, se vi dicesse cosa vedete, tutti quanti stanno descrivendo. Ci sta una cabina, una barracca vicino al mare, ci sta un albero spoglio, ci sta un ceppo lì, c'è il mare, il cielo, tutto come noi possiamo immaginare nella maniera più semplice una spiaggia. Anche questo è abbastanza semplice da codificare, questo è un classico paesaggio inglese di Constable, anche qui meno semplice di quello, c'è più roba, però se dovessi dire descrivetemi questo paesaggio non avreste dubbi a dirmi cosa vedete, un lago con delle mucche, un bel prato inglese, un astaccionato, tutto sta al suo posto come ve l'immaginate in un'esperienza di questo tipo. Già questa è un po' più complessa, questa è la caduta degli angeli di Bruegel e già qui si vede che qualcosa non funziona. Descrivere questo quadro è un po' più complesso, perché? Perché vedete che man mano che gli angeli ribelli cadono dal cielo, praticamente si trasformano in mostri e qua c'è tutta una serie di metamorfosi di questi angeli che diventano bestie e nella visione medievale del demonio, del male, è proprio il fatto che ci sono barriere tra le categorie dei viventi, quindi gli animali sono una cosa, le piante sono una cosa, poi ci sono gli uomini, poi ci sono tutti quanti gli esseri inanimati. Quanto le cose si mischiano è il demonio che ci sta in qualche modo assalendo. Quindi tutte queste combinazioni che vedete di elementi inanimati, animati, questi lacerti di pezzi di animale, è proprio il male, nella rappresentazione simbolica medievale. Però descrivere questo dipinto è un'esperienza molto difficile. ancora più difficile, perché non so perché ci fai, ancora più difficile è descrivere questo quadro di Boccioni, il nostro maestro futurista, perché? Perché le forme sono indefinite, sono qui nella visione punto futurista, che i futuristi vogliono esprimere il movimento, no? E quindi qui si vede sostanzialmente il movimento espresso, forse si vede qui la sagoma di un muso di un cavallo, no? Però poi il cavallo scompare, forse qua ci sono delle zappe, però è secondario vedere le cose, qui le cose non bisogna vederle, qua bisogna soltanto lasciarsi fluire da questo movimento e quindi percorrere con lo sguardo questo dipinto proprio seguendo questo movimento che fa Boccioni. Boccioni. Infine, ok, sorry for that. Allora, questo è ovviamente, questo è un quadro di Pollock, questo è impossibile descrivere, questo è il caos puro, questa è complessità pura, è impossibile descrivere a un amico cosa rappresenta questo quadro, no? Se io volessi dire a Francesco lo telefono e dice guarda ho visto un quadro di Pollock e lui mi domanda cosa rappresenta? E' un po' difficile far sta telefonata. Allora, ecco, quindi diciamo sostanzialmente quello che vi sto dicendo è che di fronte alla complessità, complessità estrema qua, noi rimaniamo paralizzati perché non sappiamo cosa fare, perché non sappiamo decodificarla, perché non sappiamo sviluppare dei concetti interpretativi, una categoria di rappresentazione. Noi sappiamo rispondere alla domanda che cos'è, no? E quindi può essere molte cose, ha molte facce, però non è che poi mi riesce facile. Ecco, allora, per me l'immagine più chiara dell'individuo di fronte alla complessità è data da questo maledetto quadro. Ma perché questo mi salta secondo te? Che devi premere leggermente. Leggermente. Allora, la paralisi della complessità. Questo è un illustratore americano, Rockwell, bellissimo, che guardate cosa fa? Mette questo individuo ben pensante a vedere un quadro di Pollock. Giustamente, guardatelo bene con attenzione, c'è questo individuo di mezza età, piuttosto avanzata nell'età, tutto nel suo gessato grigio, con tutta l'armatura del borghese, l'ombrello, i guanti, il cappello, le scarpe lucide, l'atteggiamento, diciamo così, il perplesso rigido di fronte a questo qua. È proprio il borghese con la sua cultura media, del suo buonsenso quotidiano, che dice ma questo che va trovando? Cioè non riesce a entrare nel senso di questo qua. Ecco, questi siamo noi di fronte alla complessità. Noi di fronte alla complessità. Questo è il problema. Quindi, allora, la domanda che mi sto posto è come possiamo evitare di fare la fine di questo buon om, di questo, lui l'ha chiamato il conoscitore, come la facciamo, evitare di fare la fine di questo conoscitore e quindi come padroneggiare l'abbondanza dell'esperienza complessa. Quindi questa è la domanda a cui cercherò di rispondere. Allora, ovviamente complesse cose diverse da complicato. Questa è una cosa complicata. Nella visione della teoria della complessità, una cosa sono le cose complicate e una cosa sono le cose complesse. Le cose complicate possiamo montarle e rismontarle. Questa bella auto la possiamo montare nel suo componente e possiamo rismontare. E' quello che in scienza si chiama il metodo riduzionista. Cioè, è come il metodo dell'ingegnere. Io non so affrontare un problema, lo divido in parte, risolvo la parte e poi risolvo un'altra parte e poi rimondo tutto. Ecco, questa è l'idea. L'idea è che i problemi complicati si possono essere risolti articolandoli in parte e sotto parte fin quando troviamo la parte che possiamo risolvere e poi ritorniamo a monte. Quindi, ci monto, analizzo, progetto, ottimizzo, questa è una parola chiave degli ingegneri, ottimizzo e poi risalgo su e monto tutto. E il complesso che cos'è? Qual è la differenza con la complessità? Quando mi hanno posto spesso questa domanda, l'unica risposta che sono riuscito a dare sensato è rifarmi a questo affresco. Lo vedete questo affresco? questo sta 5.000 anni fa in una tomba egizia dove si vede la prima rappresentazione del telaio. Ora, questa rappresentazione è molto importante perché il concetto di complesso deriva dall'arte del tessere. Cioè, sostanzialmente, il telaio è fatto da quattro aste, due aste, la 1 e la 2 mantengono tesi i fili dell'ordito, queste altre due aste, tre e quattro, sollevano alternativamente i fili pari e i fili dispari. I fili pari e i fili dispari e i fili dispari a te. Ecco, questa è l'arte del tessere. Ma cosa c'entra quest'arte del tessere con la complessità? C'entra perché? Perché? Perché plecto significa proprio intrecciare, ed è proprio il movimento che fa la navetta della trama. Questa è la trama, quella nera. Allora, però è da complector viene tenere insieme, stringere e guardate un po', viene anche abbracciare. Per cui il termine complexus, che deriva da complector, che significa appunto tessere, significa sia intreccio che abbraccio. Questa è la cosa fondamentale. Cioè, le cose complesse sono intrecciate. Questo è il punto chiave. Le cose complesse sono intrecciate. Intrecciate significa che non posso smontarle. Perché se smonto, io devo tagliare i legami. Devo tagliare dei legami importanti, non legami non importanti. Devo tagliare legami importanti. Quindi, una forma complessa è come se fosse una forma stampata su un tessuto. Se io taglio i pezzi del tessuto ci compare anche la forma. Quindi, ecco, il concetto di complesso è strettamente connesso al concetto di intreccio. Cioè, cose intrecciate che è impossibile sbrogliare con il vecchio metodo, quello che il metodo scientifico ci ha abituato, a partire da Galileo e Newton, dal Seicento. Chiaro? Quindi, allora, come si fa a comprendere la complessità siste che non posso utilizzare quell'altro metodo? Diciamo che negli ultimi 50 anni qualcosa è stato fatto. No? Nel campo scientifico, nel campo matematico e anche nel campo organizzativo. Però io vi parlerò non tanto della linea scientifica, anche se una serie di concetti ve li dirò. Io vi parlerò di come questi concetti di trama e ordito sono fondamentali. E ho fatto qua un esempio. Un esempio preso da il triptico delle tentazioni di Sant'Antonio, che è Sant'Antonio Abate, non Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio Abate è un'anacoreta, diciamo, un'eremita del secondo secolo dopo Cristo. E la cosa interessante di questo santo è che era tentato continuamente dai diavoli. Per cui, quando Bosch ha riprodotto le tentazioni di Sant'Antonio, la cosa che sostanzialmente mette in evidenza è questo santo che doveva fuggire continuamente a questi diavoli che continuamente lo mettevano alla prova. Bene. Allora, guardate una cosa interessante. Diciamo, c'è il triptico. Poi ci sono un secondo livello di lettura, perché leggere questo quadro è una cosa molto complessa. C'è un secondo livello di lettura che sono le pale. Ogni pale descrive un momento significativo della vita del santo. Questo qua è quando si sta avviando verso la conversione. Qua quando è tentato da tutti quanti i diavoli e poi là in fondo ci sta il martirio. Allora, allora, se poi a questo livello ci sono dei gruppi, vedete, e i gruppi rappresentano un terzo livello. Quindi ogni, 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 diciamo, al terzo livello c'è questo gruppo, diciamo, il santo, che si arretta dai suoi, diciamo, sostenitori attraverso questo ponte e sotto ci sta questa bella scenetta. Una scenetta che qua avevo prodotto in grande, perché c'è questo bellissimo diavoletto su cui mi sono fissato e che rappresenta sostanzialmente un qualcosa di significativo nella vita del santo. Ora, bisogna entrare nella mentalità medievale. Nel mentalità medievale ogni, ogni, ogni elemento della propria vita è un segno, specialmente quelli che hanno un impatto emotivo molto forte. Ricordate Dante che vide a 9 anni Beatrice e poi la vide a 18 anni? Beh, nel, 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 quando Dante elabora, diciamo, la Divina Commedia e poi nel convivio, dice un certo punto Beatrice è 9. Non è associata a 9. Guardate bene, dice, Beatrice è 9. Questo è un fatto interessante, perché, praticamente, nella visione medievale dei numeri, i numeri erano un ponte che associavano cose molto diverse. Per cui, 9 sono i cieli? 9, l'ho incontrato da Beatrice a 9 anni, ha avuto un impatto così forte su di me. Quindi, che significa? Che i cieli mi hanno mandato a Beatrice perché io potessi convertirmi, chiaro? Quindi, e che cosa fa da ponte in tutto questo bellissimo ragionamento di Dante? Il numero 9. No? Quindi, il concetto fondamentale è che, anche qui, ogni elemento ha una, ha un significato molto preciso. Per cui, allora io, a parte di altri aspetti, è stato molto interessante l'analettura di questo quarto livello, di questo diavoletto. Perché se voi andate ad analizzare il diavolo in dettaglio, voi vedete che porta qui una specie di, mi sembra un diavolo postino questo qua, che porta, che porta qui una, una lettera sigillata che si chiama Prozio, che è praticamente, che è un abbreviativo di protestazio. Cioè, significa un'accusa verso Sant'Antonio dei suoi meccati precedenti. Di tutti i suoi meccati precedenti. Quindi, questo è l'accusa. E qual è l'accusa? È questo scritto qua. Praticamente il rametto secco, significa sostanzialmente, era arido di cuore. L'incontinenza. Cioè, tutto questo abbigliamento di questo diavoletto è in realtà l'atto di accusa che si è scritto nella letterina. Però c'è un altro particolare qui, che questo diavoletto pattina sul ghiaccio. E pattinare sul ghiaccio che significa? Che sta dicendo delle cose strucciolivoli, non necessariamente, no? Vede? Ed ecco. Quindi, vedete la narrazione, la trama che ho posto costruire su questa struttura. Allora, questo è l'elemento interessante dell'arte, no? Che ci sta tutta una struttura che è l'ordito, tutte le scene, le sottoscene e così via. E poi noi possiamo in qualche modo raccontare molti racconti, no? Specialmente quando l'arte si presenta in questo modo qui. Però ne farò tanti altri esempi, quindi capirete che non è soltanto di questo quadro qua. Quindi, allora, quello che bisogna riuscire a fare è praticamente cercare di elaborare questi racconti. No, perché poi ovviamente ho dovuto studiare un po' per poter elaborare i racconti. Però è importante saperlo fare, che poi quando uno se lo vede dopo, ah, ne gode appieno. Però ricordate che oltre all'intreccio che ho fatto vedere di questo diavolo che porta l'accusa a Sant'Antonio, ci sta anche l'altro concetto di complessità, che è quello di abbraccio. È un concetto molto importante. Cosa significa abbraccio? Significa che noi, la realtà complessa, non possiamo soltanto analizzarla con l'uso della ragione. Ma bisogna, in qualche modo, utilizzare il proprio corpo per entrare dentro una realtà complessa. Cioè bisogna ascoltare le proprie emozioni. E faccio un esempio di come questa cosa avviene nell'arte. Guardate questo quadro che si chiama Impression di Monet. Da qui comincia, da questo quadro prendo il nome degli impressionisti. Allora, voi vedete questo quadro, non vi dice niente, è grigio. In realtà il quadro vero è questo. E questo se riesco sempre a fare... Senza... No, niente, non me lo dà. E niente, e va bene. Il quadro vero è questo qua. Ecco qua, è arrivata la data. Allora, il quadro vero è questo. Se vedete c'è questo sole qui nella bruma del mattino. E quindi questo è il porto con la bruma del mattino, il porto di Le Havre. E quindi si vede il sole che si riflette nell'acqua che sta sorgendo. Ora, la cosa interessante che hanno scoperto i psicologi cognitivi e i neuroscienziati è che... Non riesco a calibrare la pressione, non so perché. Faccio così che è meglio. La cosa che hanno scoperto gli scienziati è che quando noi osserviamo il mondo esterno, per esempio visivamente, le informazioni arrivano nella parte posteriore del cervello, qui dove c'è la memoria visiva che distingue in tante sottomemorie. Ogni pezzettino di questi sottoelementi, queste parti del cervello, è deputato ad analizzare qualche cosa. I contorni, la profondità, il moto, i colori e così via. Però una volta che è arrivata qui l'informazione, dagli occhi, arriva direttamente qui, prende due strade. La via superiore, quella là, razionale, dove qua c'è la sede del linguaggio, e poi prende la via inferiore, dove c'è l'amigdala e tutto il cervello cosiddetto primitivo, e questo cervello rilascia delle sostanze neurotrasmettitrici, tipo dopamina e così via. Quindi tutte queste informazioni, quelle chimiche da una parte, e queste qua, diciamo, razionate dall'altra parte, arrivano qui nella corteccia frontale e lì avviene la combinazione. Quindi la parte grigia va da sopra, perché il colore non passa qua, passa soltanto alle parti grigie. Qua invece va il colore. Quindi il colore è, dal punto di vista, diciamo, della cognizione, proprio quello che stimola tutta la parte affettiva della nostra cognizione. Per cui se voi guardate, vi faccio vedere un altro quadro, se voi guardate questo disegno di Van Gogh, questo è un disegno in cui c'è il sole qui, vedete, bellissimo, ci sta una siepe, però qual è la vostra attenzione? La vostra attenzione è attratta dal seminatore e da questo bel prato che vedete qui. Invece, guardate quando Van Gogh passa dal disegno al dipinto. Ecco qua. Allora, vedete subito che l'impatto cambia completamente? Cioè, sostanzialmente c'è quel sole che vi abbaglia e poi c'è comunque una vivacità che voi sentite dentro di voi nel vedere questo dipinto. Ovviamente c'è una serie di trucchi, che poi qualcuno ve lo dirò dopo, che utilizza Van Gogh perché, vedete, mette insieme colori caldi e colori freddi, che sono complementari nel disco cromatico e quindi questa complementarietà stimola ulteriormente, eccita ulteriormente la vostra sensibilità visiva. Quindi la capacità di Van Gogh di tradurre in maniera emotiva questa esperienza poi viene tradotta in puro colore. D'accordo? Ecco, quindi il colore rappresenta, da un punto di vista proprio cognitivo, diciamo, quello che stimola la parte emozionale, no? L'abbraccio, quello là, la parte dell'abbraccio. Vedete questo bellissimo quadro di Wermer che rappresenta la merlettaia? La parte più interessante è che qua, vedete, c'è una luce che si espande, no? E che colpisce il volto e infatti quello è il punto focale di tutto. E questo colore caldo che si diffonde è quello che mostra, per così dire, molto più dell'immagine questa applicazione intensa di questa donna e questa cura meticolosa del suo lavoro, no? Se voi lo vedete a partire da quella luce, capite bene che tutto è questo processo di questa concentrazione estrema di questa donna sul proprio molto… e questa sensazione di concentrazione e di amore per il proprio lavoro è trasmesso proprio da questa luce che poi illumina sia le mani che il volto, che è una luce che non esiste, è una luce soltanto, diciamo, inventata dal pittore, no? Che illumina qua e qua. Bene, siamo capiti quindi che la complessità va analizzata, utilizzando sia la capacità razionale sia la capacità di leggere le proprie reazioni emotive di fronte all'esperienza. e questa è la prima versione. Allora, però, l'arte fa qualcosa in più. Se uno riesce a, come dire, a frequentare l'arte e a frequentare la bellezza dell'arte, fa qualcosa in più. Questo paesaggio lo conoscete tutti, un paesaggio urbano tipico di chi vive in città, in metropolitana, se vedete bene, tutti quanti stanno guardando il proprio telefonino. Ora vi faccio vedere un dipinto di Hopper. Dipinto di Hopper. Dipinto di Hopper del 32, dove si chiama Room in New York, una stanza a New York. Voi dall'esterno di questo edificio guardate nella stanza e vedete che ci sta questo signore che sta leggendo il giornale e quest'altra signora, signorina, che sta con una mano indolente. No? Ora, la cosa interessante è che il suo senso di solitudine, no? Comunicabilità che danno queste due persone. E se voi le vedete, questo è possibile perché voi ci entrate qua dentro, voi entrate dall'esterno, no? in questo ambiente, però queste due persone sono, vedete, dal punto di vista percettivo, sono suddivise da questa porta che in qualche modo separa questo sfondo da quest'altro sfondo. e quindi già percettivamente, poi questa è la bellezza dell'arte, che mi mette a disposizione un'esperienza, come diceva Barthes, dove non si butta niente. Tutto è funzionale alla comprensione, no? Allora, qui vi fa vedere questi due e quindi questa enfatizza l'esperienza dell'isolamento. perché se mettesse qui un solo sfondo, già sarebbe diversa. Vedete, poi crea dei parallelismi, questo rettangolo qua, quest'altro rettangolo qua, queste linee verticali qua, queste linee verticali là, in modo che ci sta una corrispondenza tra i due, non sono estranei, ma c'è un parallelismo, e questo parallelismo è fondamentale. E alla fine, se voi pigliate quelli là, li proiettate qua dentro, cosa vedete? Vedete cosa succede veramente. Ognuno sta isolato nel suo mondo. Vedete com'è potenziata l'immagine ora? Quell'immagine esperienza quotidiana, come viene potenziata dall'esperienza dell'arte. Questi due che stavano per loro conto nella metropolitana, li ho sostituiti. Qui è immediatamente il senso di quella solitudine, di quella separatezza, con tutta la sua drammaticità, che voi non vedevate là, la drammaticità. Invece qua vedete la drammaticità di questa situazione? Ecco, questo è l'addendum che vi dà l'arte. Lì non vedete il dramma di persone isolate, fuori contesto, senza nessun interesse per gli altri, e qua invece lo vedete il dramma. L'ho riuscita a percepire questo addendum? Ecco, allora. E quindi questa è proiettata praticamente nel suo universo e ha cancellato tutto il resto. Ecco, questo significa per me l'arte potenzia le vostre capacità accognite. L'arte potenzia le vostre capacità accognite. Ovviamente, fatta questa analisi, è facile capire quest'altro quadro di Hopper. Questo qualcuno vuole descrivere di voi, questo quadro di Hopper? Questo è un paesaggio d'ufficio. Qual è la sensazione che vi dà? Distanza di gelo. Sono due persone separate, ognuno sta per fatti suoi, in questo silenzio che sta in questo ufficio. Anche c'è la gerarchia, quella la che può timidamente esigire. Però la cosa interessante è proprio, si sente qui il peso, il peso, andate che felicità al lavoro, qua sente il peso del lavoro, no? E dello stare insieme in un unico ambiente. Ovviamente, conoscendo i trucchi di qui sopra, capite bene da questa cosa è data, perché, vedete, di fatto questa signorina qua è separata da questo blocco, dello scaffale qui, del binder, da questo signore. C'è questo livido sfondo e poi questo verde marcio che sta qua. Tutti i colori che allontanano. No, tutti i colori che allontanano. Quindi, diciamo, sostanzialmente non ci sono quei bei colori azzurri, no? Tutti i colori che allontanano, un po' repellenti. Comunque, diciamo, sostanzialmente quello che accade, ecco, che questa potenzia, che cosa può diventare, no? Un lavoro di ufficio, no? Dove non ci sta, appunto, la gioia. Allora. Allora, mo' dobbiamo fare... Dopo aver detto questa... È già passato parecchio, eh? Vola, vola, vola. Vola, vola. Vabbè, voi mi dite stop, io stop. Vabbè, eh. Perché qua potrei continuare, eh? Allora. Allora, faccio vedere cosa significa vedere. È come vede una persona, diciamo, un novizio e come vede un esperto. È perché l'esperto vede di più di un novizio. Allora, vedere il visibile. Se vi faccio vedere... Che è successo, no? Allora. La realtà, di fatto, al nostro sistema cognitivo arriva così, frammentata in tanti pezzi, no? Quello che... Quello che... Quello che... Che dobbiamo fare è ricomporre i pezzi. Ecco, ora vi mostro questo pezzo qua. Questo puzzle. Cosa vedete in queste macchie? Cosa vedete in queste macchie? Un cavaliere, significa che c'è un cavallo, il signore col cappello. Vedete tutti? Sì, sì. Vedete tutti il signore col cavallo e col cappello? Ecco qua. Il musso del cavallo, le zampe del cavallo, la coda del cavallo, il cappello da cowboy qua, eccetera. Ecco. Una volta, una volta che l'avete visto, una volta che l'avete visto, non potete fare più a meno di vederlo. Cosa significa? Chi è che l'hai interpretato? Io. Come diane? Rita. Luisa? Rita. Rita, Rita. Rita, una volta che l'hai visto non puoi fare a meno più di vederlo. perché quello che è successo sostanzialmente è che tu, per poter vedere il cavallo, il cavaliere, eccetera, hai dovuto in qualche modo, in tempi rapidissimi, riscoprire nel tuo passato di esperienze visive qualche cosa che ci assomigliasse. Poi, una volta che l'hai trovato, hai praticamente oscurato tutte quante le macchie che non servivano allo scopo. che non servivano allo scopo e hai messo in evidenza soltanto le macchie che ti servivano. Quindi hai lasciato perdere una parte dell'informazione per riuscire a trovare una forma riconoscibile, un pattern, cioè una configurazione riconoscibile in base alle esperienze passate. Ecco, questo è un punto chiave. se non avessimo avuto nessuna esperienza di cavalli o di cowboy a cavalli sarebbe stato impossibile vedere questa figura. Forse ci sta qualche problemino con la memoria del lavoro. Forse ci sta qualche problemino con la memoria del lavoro. oppure ci sta qualche problemino. Vabbè, diciamo che non ci sono problemi. Diciamo che... facciamo che ci sono soltanto le esperienze. Se non abbiamo esperienze di una cosa non riusciamo a vederle. Chiaro? Quindi è proprio la varietà delle esperienze a cui è stato sottoposto Rite che permette a Rite di vedere, anzi, più che di vedere, di estrarre da questo insieme di macchie qualcosa di intellegibile. Guardate, questo è un problema importante perché vedete, è un'azione attiva, non passiva. È un'azione attiva, cioè dovete proiettare all'interno di tutte queste sensazioni degli schemi, dei pattern, delle configurazioni, delle forme. che poi normalmente a queste forme associate anche delle parole, delle frasi, ma non necessarie. L'importante è che potete anche vedere delle cose che non riuscite a dire che cos'è, però riuscite a riconoscere, però non riuscite ad acchiapparle intellettualmente. Ecco, diciamo che sostanzialmente estrarre pattern dalla massa delle esperienze personali è quello che noi facciamo normalmente, sia quando ascoltiamo, sia quando vediamo, ogni nostra esperienza è estrarre pattern. Noi siamo stati costruiti dall'evoluzione come tutti i viventi, anche l'amebba è stata costruita per estrarre regolarità, si chiamano queste qua, regolarità dal flusso caotico dell'esperienza. Estrarre regolarità dal flusso caotico dell'esperienza. Soltanto che succede? Succede questo, vi faccio vedere. Immaginiamo che Francesco deve telefonare a Rita questi numeri. I primi numeri da 11 e 30 sono in ordine casuale e quelli invece sono ordinati. Qual è la telefonata che dura di più? Perché? Perché devo dire necessariamente tutti i numeri. Il primo è 11, il secondo è 21, il terzo è qui, perché non c'è un pattern. Nel secondo, invece, posso dire, la telefonata diventa molto più breve, costa anche di meno, posso dire che i numeri sono dall'11 al 30 in ordine crescente. D'accordo? E ha finito la telefonata. Ecco, noi estremiamo pattern proprio per risparmiare risorse cognitive. perché immaginate se il mondo non fosse regolare, quando sarebbe difficile la vita vivente. Anzi, secondo le teorie, diciamo, evolutive, non ci sarebbe il vivente. Se il mondo, l'esperienza non presentasse regolarità, la vita non potrebbe esistere. La vita esiste perché il mondo offre delle esperienze che hanno delle regolarità, delle forme intellegibili, non è caotica e noi riusciamo a intercettare queste forme. Ora, però, il problema è che dobbiamo allenarci, allenarci a trovare l'ordine che dobbiamo intercettare. Perché se noi riusciamo ad allenarci, per noi tutto il mondo appare buona parte così, appare casuale. Quindi, il problema è che, questo è poi l'apprendimento, di cominciare a riconoscere pattern. Però ci sono delle trappole. Ecco. Cosa vedete qui? Un quadrato. Giusto, un quadrato. Vero? Siamo certi che vediamo il quadrato? In realtà, in realtà, perché vediamo il quadrato? Perché il modo più semplice per collegare quei quattro, è più economico, è proprio tipo i numeri che abbiamo visto prima, più economico. Però, il problema è questo. Se il mondo cambia continuamente, come avviene nell'oggi, con la complessità, perché siamo tutti connessi, continuamente sorprese che vengono da tutte le parti, no? Sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista personale, tecnologico, noi parliamo, chat GPT, è arrivato l'altro ieri. Allora, quindi, tutte queste sorprese dobbiamo imparare a gestire. Se noi siamo fossilizzati, per così dire, a vedere sempre e soltanto questi quattro punti come i punti di un quadrato, siamo in difficoltà, perché siamo con la stessa situazione, vedete, di questo bellissimo quadrato di Magritte, gli amanti, che non si riescono a baciare, perché siamo tutti quanti avvolti con questo cappuccio, no? Quindi noi riusciamo a baciare il mondo, detto in altri tempi. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna imparare a capire che quei quattro punti è solo una delle possibili soluzioni con cui collegare il quadrato, è una delle possibili soluzioni, ce ne sono tante altre possibili soluzioni. però quasi tutti, penso, abbiamo detto quadrato, perché un po' per inerzia, un po' perché è la forma più semplice, quindi risparmiamo a punto di vista cognitivo, e quindi non riusciamo a vedere tutte le altre possibilità. Quindi queste è... perché nessuno ci ha detto di collegarle con quattro linee, no? Allora, ora questo è il problema della complessità, perché la complessità ci spiazza le conoscenze precedenti, perché le esperienze complesse mettono in crisi le esperienze precedenti. Cioè una cosa diventa complessa quando, non in sé, ma nel rapporto tra il mio apparato cognitivo e il mondo esterno, quando le cose che ho in testa, le forme che ho in testa per decodificare il mondo, fanno acqua. Non riescono in qualche modo a dirci le cose come stanno. Quindi il problema, diciamo, diventa a questo punto di vista relazionale della complessità. C'è anche una complessità oggettiva, però lasciamola vedere. Questo che mi interessa è questa complessità relazionale, cioè la capacità di mettere in sintonia le nostre capacità di creare questi pattern, queste configurazioni, con il fatto che siamo bloccati ancora nelle vecchie conoscenze che sono queste qua. Quindi, insomma, quello che sto dicendo è che bisogna allenarsi per cominciare a comprendere e affronteggiare la complessità. E cos'è che non vediamo? Per esempio, la difficoltà è di vedere cose che sono messe insieme in modo incongruo. Questo bellissimo quadro di De Chirico mette un guando di lattice insieme a un busto di una polla, una palla, un treno che sta là dietro, una cozzaglia di cose misteriosamente insieme. Ma che cosa vuol dire tutte queste cose insieme? Noi quando vediamo cose che non stanno insieme così come dovrebbe essere ognuno al posto suo, questo dovrebbe stare in un museo, questo dovrebbe stare in cucina, cioè, chiaro, ognuno al posto suo, insomma, andiamo in crisi. Oppure, quando per esempio in questo bellissimo quadro di De Chirico ci sono qua, vedete, è un po' strano questo pomeriggio, eh? Perché semplicemente De Chirico ha utilizzato due prospettive diverse. Un punto di vista, un punto di fuga qua, un altro punto di fuga qua. Quindi praticamente non è un'esperienza reale, razionale, univoca. Ci sono due punti di fuga, quindi non è un'esperienza che uno vive. Infatti, perciò, i paesaggi De Chirico diventano misteriosi. Proprio perché ci hanno più punti di fuga che, ovviamente, dal punto di vista dell'esperienza personale, è una cosa incongrua. Oppure non riusciamo a vedere le opposizioni. Il giorno e la notte, come in questo quadro di Magritte, dove sopra è giorno e sotto è notte. E questo pur ci crea un senso di fastidio. Ecco, allora, i paradossi, come in questo caso qua, le relazioni incongrue, i diversi punti di vista che non si mettono insieme e convergono. Ecco, tutto ciò che facciamo noi quando siamo di fronte a queste complessità esperienziali? Le prendiamo e le buttiamo da parte, come le macchie che non vediamo del cowboy. Chiaro? Noi, istintivamente, eliminiamo tutto ciò che ci dà fastidio e che non riusciamo a tenere insieme all'interno dello schema. No, che abbiamo fin qui sviluppato. Ma la cosa ancora peggiore è questa. Questa è una quasi più bella, anche se può sembrare banale. Però qua Degas, che mostra questo signore, il visconte Lepic, insieme alle due figlie, insieme al cane, ora ha fatto una rivoluzione qua, Degas. Degas non dipinge questo qua davanti, frontale, come fanno tutti i quadri rappresentativi, quelle che stanno appese alle pareti, eccetera. Ma questo sapete come dipinto? Come se noi, camminando per la strada, improvvisamente guardiamo lo sguardo e vediamo questo che passa e poi continuiamo a camminare. Ecco, esattamente così. Cioè, quello che ha dipinto qui è quello che Calvino chiama l'infraordinario. Calvino, se leggete un libricino piccolo, scritto da Perec, tentativo di esaurire una piazza parigina, un luogo parigino, lui si fa, Perec, questo scrittore francino, si siede a un tavolo a Place Saint-sur-Price e comincia ad annotare sul suo tacquino tutte le cose che vede. Dopo 15 giorni già fa più, perché le cose sono infinite, cioè l'esperienza è infinite. E Calvino, chiosando e commentando questo nella postfazione, questo libro di Perec, chiama questa esperienza che cercava di fare Perec, di esaurire questa esperienza, la nostra incapacità di vedere l'infraordinario, cioè tutto ciò che ci sfugge mentre stiamo vivendo. Questo è quello che ci sfugge mentre stiamo vivendo, uno sguardo di sfuggita e perdiamo un sacco di informazioni che potremmo raccogliere andando ad analizzare i vari pezzi di questo dipinto. Allora, la questione che mi pongo e che mi sono posto è come si fa a vedere questo che è invisibile, questa cosa invisibile, l'infraordinario. Come si fa a vedere non soltanto le cose che sappiamo vedere, ma anche le cose che non siamo abituati a vedere. Ed ecco allora il problema. Bisogna entrare, come fa Talish, dall'altra parte dello specchio, no? Bisogna entrare in un altro mondo e cercare di vedere l'invisibile. Allora, e qua ci viene in aiuto la teoria della complessità, anzi un concetto molto importante elaborato da un fisico americano che si chiama Gelman, Murray Gelman, premio Nobel per la fisica, però io ho preso il concetto, lasciate, lasciamo perdere l'equazione. Prendiamo il concetto e si chiama la complessità efficace, effective complexity, la complessità efficace. Allora, quando noi vediamo questo quadro bellissimo che sta a MoMA di New York, che è questo giro di waltzer di Severini, ovviamente sapete che qua Severini, che è un altro futurista, come ha dipinto questo quadro, immaginando che voi state ballando il waltzer così, no? E quando ballate che cosa vedete? Vedete frammenti, vedete frammenti di cose, non vedetele, perché vorticate nel ballo, allora vedete, qua vedete un monocolo con un paio di baffi, qua vedete un bicchiere da qualche altra parte, un volto, un tacco, eccetera. Sono tutti i frammenti che sperimentate quando fate un ballo vorticoso tipo waltzer. Allora, quello che accade, che accade è che, ok, salta davanti parecchio, è indisciplinato, allora vedete, vedete dei frammenti, un volto, eccetera. Allora, quello che sostanzialmente dicono una serie di discipline, tra cui la tridata complessità, la psicologia cognitiva, le neuroscienze, berline, le neuroscienze, dice che sostanzialmente il nostro, quando noi cerchiamo di comprendere qualche cosa, lasciamo aperte che soltanto visivamente, ma anche in altri sensi, noi continuamente ci muoviamo in due direzioni, verso l'unità, cercando di mettere insieme i cocci e cercare di capire cosa significa. E poi, quando non siamo soddisfatti di questa soluzione provvisoria, andiamo a raccogliere altre informazioni. Quindi, raccogliamo informazioni e cerchiamo di metterle insieme. Raccogliamo nuove informazioni, quindi facciamo questo continuo avanti e indietro, verso costruzione dell'unità e costruzione della molteplicità. Chiaro? Quindi dobbiamo costruire queste due cose contemporaneamente. E quindi ci muoviamo, continuamente dal punto di vista cognitivo, a raccogliere informazioni, dettagli e a cercare di comporle in un'unità. E vi faccio vedere come fa un novizio e come fa un esperto. Vedete, io ho preso questo quadro perché è stato analizzato il laboratorio da esperti e da, mettendo con degli apparecchi particolari dove vedevano le fissazioni, dove fissavano gli occhi, con delle macchine particolari. E questo è il tracciato delle fissazioni di un principiante e questo è quello che vede un esperto. Notate la differenza fondamentale? La faccio vedere meglio. Il principiante si concentra qui al centro, l'esperto accoglie più informazioni possibili su tutto quanto la struttura del quadro. Questo ha, nello stesso unità di tempo, 16 fissazioni e questo ce ne ha 25 fissazioni. Perché il nostro occhio fa così, fissa, poi c'è un movimento rapidissimo, si chiama saccate, poi fissa, così facciamo continuamente. In mille secondi, vedete, 80 millisecondi. Allora, quindi, quindi diciamo sostanzialmente l'esplorazione della realtà avviene in modo diverso a secondo se uno è un principiante oppure se uno è esperto. In questo caso, perché quell'esperto e quell'esperto principiante? Perché quando hanno fatto... Quando hanno misurato? No, allora, hanno preso uno storico dell'arte, che era esperto, non uno, più storici dell'arte, e più persone che non avevano una particolare esperienza di arte o di storia. Non hanno fatto descrivere niente? No, no, non hanno fatto descrivere niente. Hanno preso, hanno messo un visore collegato a un computer che analizza il punto di fissazione dell'occhio e poi lo abbina all'immagine e cerca... e quindi va a vedere esattamente se voi andate su web e vedete come questa tecnologia è utilizzata per analizzare cosa vedete al supermercato, quando comprate al supermercato. Quali sono le fissazioni che voi avete sugli scaffali e dove posizionare i prodotti affinché li comprate più facilmente? Perché vedete quelli? No, andate a vedere e poi se volete vi do anche i siti, però basta andare su web e vedete una serie di riproduzioni molto interessanti. Però la cosa a cui mi interessa è su due cose. Prima, che questo qua raccoglie più informazioni. Poi fa una cosa molto interessante, fa dei salti lunghi. Invece qua fa tutti quanti salti molto brevi e concentrati. Per fare salti lunghi significa che ci vuole un po' di coraggio, coraggio cognitivo intendo dire. Cioè nel senso che tu devi lasciare le cose dominanti che stanno qua, no? Che stanno al centro dell'elemento dominante e andare a vedere i particolari dettagli, le cose che non sono dominanti. Cioè quello là che sta, no? Diciamo in qualche modo l'abbiamo messo da parte. Chiari ragionamenti. Quindi l'esperto ha questa capacità. Cioè quello là di assumere più informazioni andando a vedere più cose. Allora, da questa cosa, da questa e da altre tante indagini, è nata questa ipotesi, che quella poi è il cuore diciamo di questo mio ragionamento. Tra, se questa è l'immagine, noi ci muoviamo tra un'unità dove tutto è confuso in un solo colore, no? E qua invece tutti quanti pixel, ognuno c'è il suo colore. Quindi, però qui non c'è nessun significato perché non si vede niente. Anche qui non si vede niente. Non riesce a distinguere. È banale questa qua. Non ha nessuna esperienza significativa. Quindi quello che accade, costanzialmente, è questo. Che noi continuamente, come ho detto prima, ci spostiamo da questa parte qua per raccogliere dettagli e costruire la molteplicità delle cose. E dall'altra parte ci muoviamo in questo senso qua per mettere le cose insieme che abbiamo costruito. Quindi noi continuamente ci muoviamo nel costruire la molteplicità e nel costruire l'unità. E facciamo questo andirivieni. E la cosa interessante che dice Gelman è che ci fermiamo quando abbiamo il massimo della significatività. Cioè, ci fermiamo in una via di mezzo quando abbiamo il massimo significativo. Come ha fatto rito quando ha visto il cowboy. Massimo significativo significa che ha buttato poche macchie. Di tutte le macchie che vedeva, quella immagine, quel frame del cowboy gli ha permesso di minimizzare, permettetemi questo termine, il numero di macchie che ha dovuto buttare via. chiaro i concetti di complessità efficace. Detto in altri temi, ha dovuto minimizzare le informazioni che ha scartato. Questo è il concetto di complessità efficace. Minimizzare le informazioni che non mi servono. Ovviamente, però, una cosa è che la cosa la fa l'esperto, una cosa è che la fa il novizio. Perché il principiante si ferma più da questa parte e non osa andare da quest'altra parte qua. E sta più basso. L'esperto raccoglie più informazioni e arriva ad una complessità efficace più alta. Questo è quello che dice Gelman. Apprendere l'esperienza significa sapere descrivere il maggior numero di regolarità presente nell'esperienza nel modo più sintetico possibile. Questo è quello che dobbiamo riuscire a fare. Raggiungere il punto più alto possibile. Ecco. L'arte ci può aiutare in questo? Se mi date un altro, non so. Quanto tempo mi dai ancora, Francesco? Non mi dico che mi serve perché stasera non tornate a casa. 10 minuti, un quarto d'ora. Quando mi date? Fate resistere 10 minuti, un quarto d'ora. Esagerare. Allora. Quello che voglio vedere, farvi dimostrarvi, è perché l'arte ci allena a fare queste cose. perché gli artisti sono stati in grado, attraverso una serie di sperimentazioni e anche intuizioni, riuscire a utilizzare al meglio queste nostre capacità cognitive di costruire l'unità e costruire la molteplicità. Quindi frequentare l'arte ci allena a questo. Chiaro? Allora vi faccio quattro esempi di come gli artisti costruiscono l'unità attraverso dei metodi e quattro esempi di come costruiscono la molteplicità. Se mi date questo po' di tempo, altrimenti, tra la prossima volta. Allora. Lasciamo perdere le chiacchiere e andiamo al solto. Allora. Costruire... Vediamo la prima parte è questa. Costruire l'unità. Allora, vi mostro queste quattro strategie. Allora, la prima strategia che utilizzano gli artisti per costruire l'unità delle esperienze e darvi la visione complessiva è quella di eliminare i dettagli e sfumare i confini. È quello che noi facciamo quando categorizziamo, quando diciamo voi siete un gruppo che sta ascoltando. Non sto dicendo uno, uno, uno. No. Io ho categorizzato come gruppo di asculto, non devo dirne cosa. E quindi, per me, lavoro sul concetto di gruppo. Non lavoro sul concetto di Francesco, Rita, Marzia e Chiara. Ragione. Quindi, e questo mi semplifica la vita. No. Sottrarre i dettagli. Categorizzare. Categorizzare in termini verbali. In termini visivi e sottrarre i dettagli. Faccio vedere alcuni esempi. Questo qua, Picasso. Vedete il paesaggio reale e il paesaggio di Picasso. È la stessa collina dipinta da Picasso. Cosa ha fatto? Ha eliminato tutti gli alberi e le finestre. Ha riprodotto soltanto le masse squadrate delle case. Però cosa ricaviamo noi da questo? Invece di perderci a guardare queste cose. Noi vediamo qui questa massa compatta. No. Di case che diventano una sola cosa con la collina. Tipo Montepulciano, praticamente. No. Una sola cosa con la collina. E quindi noi ricaviamo questo senso di unità tra questa costruzione naturale e questa costruzione artificiale di queste masse. che possono sembrare anche masse non soltanto artificiali ma costruite proprio dalla natura. È chiaro? Questa è la visione. Ecco. Quindi sottrarre i dettagli. Un altro esempio di Turner. Da tutto questo. Vedete? Qui non ci sono dettagli. Questa è una nave in tempesta. La nave se o no la vedete da questo piccolissimo segno qui. Da questa piccola asta con questa bandierina. Però sono dettagli. Quello che voi vedete qui è questo turbinio della tempesta. Turner si faceva legare all'albero per poter cogliere le sensazioni di questa. Molissima. Si faceva legare all'albero per cogliere le sensazioni di questa tempesta e vedere tutti quanti gli spruzzi del mare. Ecco. E quindi qua doveva dipinto. Non la nave. Ha dipinto le sensazioni. Come l'ha tutto potuto fare? Eliminando qualsiasi dettaglio. Soltanto un flusso di sensazioni. Il quadro che vi voglio fare è questo qua. Che sta a Washington. Le Degenerie des Cannottiers di Renoir. Bellissimo. Questo quadro è bellissimo. Dove Renoir rinuisce gli amici. C'è un bellissimo libro della Vreeland dove parla della storia di questo quadro. Un romanzo che si chiama La vita moderna. Che descrive la storia di come ha fatto questo quadro in modo romanzato. Una lettura eccezionale. Allora. Perché questo senso di calore, di affiatamento e così via? Volete vedere cosa fa il nostro? Guardate qua come dipinge i bicchieri. Dei colpi di luce. Vedete? Non se ne frega di fare il bordo. Vedete come il bicchiere sfuma nel... Tutto sfuma nello sfondo. Guardate la boccuccia di Alinella che poi sarà la sua moglie. Guardate come il rosa del labbro sfuma nel bianco qua. Cioè il trucco era proprio di eliminare i confini. Eliminando i confini netti, il segno netto del confine, tutto quindi si agglutina, si ammaglia, si intreccia. Si intreccia. Vedete il concetto di qui sopra? No, si intreccia. E questo è uno dei trucchi utilizzati. Trucchi chiamati. Io chiamo trucchi per... Non voglio svedirli. C'è uno dei... Perché è intuitiva questo modo di vedere, no? Cioè di rendere, diciamo, l'afflatra a questa compagnia di amici appunto in questo modo. Ma guardate questa scultura, è ancora più chiara, no? Questa scultura di Medardo Rosso, la mamma con il figlio. E vedete come si congiungono i corpi, no? E dove si vede proprio qua il rapporto d'amore della mamma col figlio attraverso l'eliminazione del confine tra questi due corpi. Vabbè, siamo capiti. Uno dei metodi per trovare l'unità, sottrarre i dettagli, eliminare i confini... No. Secondo metodo... Ecco qua. Questo qua, quello di creare dei parallelismi e delle simmetrie. Questo bellissimo quadro, vedete? Qua è carissima la simmetria, no? Questa è tipica di tutti questi quadri qua, dove al centro c'è la Madonna e ci sono tutto quanto la simmetria. La simmetria viene utilizzata spessissimo dai pittori per dare unità al contesto, perché altrimenti qua si venderebbe una folla di persone senza nessuna unità. Questa... Questa... I vari piani, i vari piani, no? E quindi, vedete, voi entrate in questo quadro e poi salite sopra, no? Verso la madre... La simmetria e l'ordine significa trovare delle corrispondenze tra parti diverse dell'esperienza visiva. Ma sapete qual è l'equivalente, diciamo, dal punto di vista razionale? Il pensiero analogico. A sta a B come B che C sta a D. Cioè, quando ci vuol dire delle somiglianze, no? Vediamo che si chiama così, le somiglianze, i parallelismi, no? E noi, quando... La buona parte del nostro pensiero è analogico, no? Lavoriamo per similitudini, simiglianze. Rarissimamente facciamo inferenza logica A implica B, B implica C. Questo è un po' innaturale, questo tipo di... Invece è molto naturale a noi ci viene lavorare appunto per corrispondenze, per simiglianze, per analogia. E' così che diamo senso all'unità del mondo. Vado veloce. Questo è raggruppare. Questo è facile da capire. Questo è Giotto, che sta alla Cappella degli Scrovegni, la retrofacciata. E vedete? E' anche qui. Si all'ordine attraverso il raggruppamento. Come abbiamo visto pure prima, quando abbiamo visto il quadro di Bosch, le tentazioni di Sant'Antonio. Ancora e finisco. Ecco qua. Questo è bellissimo perché è molto interessante. Questo quadro di Wermer di separare i livelli. Separe i livelli. Guardate qua. C'è un primo livello che è la struttura generale dell'architettura. Poi Wermer apre due finestre e vi fa vedere la vita intima nella casa. Quindi separe i due livelli di lettura. La lettura da parte della strada e poi la lettura all'interno della casa. E questo separare più livelli è una cosa che facciamo normalmente, no? Quando noi ragioniamo di mettere, eh? Questa è la cosa più importante. Poi viene questo. Siamo capiti. Ci siamo capiti. Invece, come costruiamo la molteplicità? Come costruiamo? Vabbè, questo è anche pure la stessa cosa, lasciamo vedere. Allora, come costruiamo la molteplicità? Ecco qua. Guardate questo qua. Questo è il viso medio. Vi dice qualcosa questo viso medio? Niente. Vedete se io faccio questa deformazione del viso medio? Allora, quando enfatizzo degli elementi, improvvisamente appare il significato. Tre volte sono perfettamente riconoscibili perché sono tutte deviazioni dal viso medio. Allora, noi abbiamo l'ideale che il bello sia questo. Questo è il naturale. Questo è il naturale. Non esiste la media. Qua esiste il significato. Nella deformazione della realtà. Vi faccio vedere un altro esempio dopo. Cioè, quindi, quando noi... Così, come lo deformiamo nella realtà? Con gli aggettivi. Con i superlativi. Questa cosa è proprio forte. In Napoli è una grande squadra. Chiaro? Allora, quindi... Ebbè... Permettete la citazione. Allora, quindi... È chiaro? Qua, enfatizzando i caratteri, improvvisamente emerge il significato. Quando noi, quando vogliamo stressare le cose, facciamo un bel superlativo. No? Un bel... E... Guardate, noi utilizziamo le stesse... Dal punto di vista linguistico, utilizziamo gli stessi... Espedienti. Le stesse strategie cognitivi. Così si chiamano? Strategie cognitive per dare senso alle cose. Allora, vediamo un'altra... Ecco qua. Vedete quest'altra qua? No? Come Modigliani e Schill deformando il corpo, enfatizzano la spiritualità oppure il dramma interiore. No? Che vive quel suo autoritratto che sta là dietro. Oppure Grotz quando deve fare la caricatura della società borghese della Germania. Come... No? Enfatizza. Ecco, enfatizzare è uno dei metodi per raccogliere la molteplicità, la diversità delle cose. E enfatizzare. Ricordate. Vabbè. E guardate la differenza tra il volto regolare di Giotto e invece quello là. Tutto... Distorto di... E questo è un altro modo per enfatizzare. Vedete? Di Magritte. Seconda strategia. Ecco qua. Ricombinare le cose. Vedete questa bellissima Torre Eiffel? Vi dà la sensazione di essere alta? In realtà, se voi vedete, non molto perché... Questa fotografia, questa è più o meno così. Insomma, no? Come... In realtà, Delaney, che fa? Per poter dargli senso della verticalità, ritaglia questa... Questa... Questa immagine. E vedete cosa combina? Questo è il quadro di Delaney. Questo l'ho fatto io ritagliandolo in mano. Allora... Vedete? Il... Questo è quello che fa. Cioè... Ricombina l'esperienza. Ricombina l'esperienza per enfatizzare un principio. Qua ecco... Un obiettivo. Una sensazione. Qua la verticalità. E vedete qua... Come... Si arrampica... Verso alto questa... Questa torre? Che là e prima non si arrampicava affatto? Vedete com'è più potente questa ricombinazione rispetto a quella precedente? E' un'altra cosa, no? E' un'altra... E' un'immagine molto potenziata. Vabbè... Siamo capiti. Vabbè... Lasciamo perdere altri esempi. Ecco... Vedete qua... Anche qua il potere della... Della ricombinazione. Un sellino di biciclette con un manubrio è diventato la testa di una capra, probabilmente. Allora... Questa invece è una terza... Poi qua abbiamo quasi addirittura d'arrivo. Vedi? Ci sto mantenendo più o meno... Più o meno. Allora... Il... Gestisci il potere del ciclo. Questo... Questo è molto importante, insieme al prossimo che sono decisivi, abbiamo visto. Guardate questo quadro di Paul Clay. C'è quel sole rosso e poi c'è questa... Questi quadrati che rappresenterebbero, diciamo, del... Può darsi delle abitazioni, delle case, no? Comunque, diciamo, il punto centrale è questo. A punto di vista percettivo, questo è il centro di tutto quanto il discorso. Da qui, proprio il rosso, eccita terribilmente nel nostro apparato visivo. Qui si parte un'energia che viene... Poi... Non si perde questa energia. Viene controllata e strutturata da questi elementi geomerici che sta dentro. È come se io prendessi questa energia e la imbriglio... E la imbriglio all'interno di una struttura regolare. Se voi la vedete così... Vedete che... E fate finta di oscurare questa parte qua... Vedete che quell'energia si disperde. Invece così... Si incanala e si struttura e dà energia a tutto il quadro. No? E quindi diciamo... Ecco, fate questa esperienza qui. Vedete? Vedete come quel sole giallo... Che sole è l'uno, non ci interessa. Quel sole giallo struttura tutta l'immagine. Perché genera un campo di energia che viene vincolato da quella griglia. No? Ecco, questa è una cosa molto interessante. C'è quest'idea che tu l'energia, anche l'energia creativa, devi vincolarla. Senza vincoli non ci sta creatività. Ci sta un bellissimo testo che parla delle strategie dei vari scrittori, artisti e così via. E sostanzialmente emerge con chiarezza che, se non sbagli, si chiama Deile Habits, una cosa del genere. Però, se volete vi darò i riferimenti, dove parla dell'abitudine dei grandi artisti, scrittori e così via. Allora, la cosa fondamentale è darsi delle regole rigide. Più è rigida la regola, più sei costretto a essere creativo. Quindi, i vincoli come risorso per la creatività. Che sia interessante. Cioè, l'energia creativa, per essere imbrigliata ed essere produttiva e non disperdersi in vapore, in entropia, deve essere imbrigliata all'interno di una struttura di vinco. Per esempio, Bazzac, che doveva scrivere, forse, perché era pieno di debiti, praticamente si cominciava a mezzanotte a scrivere, con una caraffa di due litri di caffè, finiva alle 5 di mattina, ogni giorno. Simenon, che ha scritto pure una quantità, si chiudeva per due settimane nella sua stanza e scriveva, qui non bisogna entrare, dalla mattina fino alle 4 di pomeriggio, nessuno poteva entrare in quella stanza. Per due settimane, poi scriveva una settimana di riposo, in due settimane finiva un libro di Magritte. Quindi diciamo, ecco, regole rigide per imbrigliare la creatività. Questo è un elemento fondamentale, e qui trovate un analogo. E questo, secondo me, è quello la più importante. Vedere il campo di tensione. Osservate questo bellissimo quadro di Degas, la ballerina, lui ha fissato con le ballerie. Allora, però non le riprendeva mentre stavano sul palcoscena. Gli piaceva vedere cosa succedeva dietro al palcoscenico, ma ha preso quello la, il Visconte, la Pic. Ecco, se guardate questo bellissimo quadro, apparentemente semplice, però vedete come questa ballerina si alza? Perché si alza? La faccio vedere perché si alza. Perché è come se ci fosse un contrappeso, qua, visivo, che la fa cadere, e questa qua è una bilancia che invece la tira verso l'alto. Se voi lo guardate, succede esattamente così. Cioè, ci stanno due elementi che si contrappongono, la faccio vedere? Vedete? Lo vedete ora? Oscurate un attimo questo. Eh, hai difficoltà a far sollevare questa ballerina. No, quindi diciamo, ecco, questo facendo che noi quello che vediamo, per essere significativi, deve essere immersi in un campo di tensione. Le tensioni sono fondamentali. Io quando faccio le mie lezioni all'interno dell'organizzazione, diciamo, il conflitto, guardate, non è il demone, il demone medievale che abbiamo visto prima, non è il male, il conflitto, è necessario. Soltanto che bisogna contenerlo all'interno di un certo range, perché se è troppo elevato distrugge tutto, ma è come la temperatura del corpo umano. Se è troppo elevato sei morto, ma anche se è troppo basso sei morto lo stesso. Cioè, quindi, è come la temperatura del corpo umano, deve stare in un range il conflitto, perché il conflitto significa che la gente si sta appassionando alle cose, ha degli interessi nelle cose e vuole portare avanti il suo punto di vista. E poi bisogna comporlo, certo, questo conflitto. Ma questi politici sanno come si fa. Vedete questi tre quadri. Leggetevi da questo punto di vista. Vedete, c'è un vuoto. Attenzione, il vuoto è fondamentale. Il vuoto ha un ruolo fondamentale per concentrare lo sguardo sulle cose focali. Il vuoto è fondamentale nell'arte. E guardate le tensioni che si creano. Il punto di equilibrio, le tensioni su tutte quante, diciamo, il punto di equilibrio e le tensioni che si creano visivamente su questi quadri. Beh, ecco, qua ho fatto il riassunto. Il riassunto di queste otto strategie che vengono utilizzate dagli artisti, ma che noi utilizziamo, anche noi, in maniera estremamente naturale. Però, se ne siamo consapevoli, possiamo gestirle. Chiari ragionamenti. Passare da un rapporto naif, tipo il principiante di quello di prima, a un esperto. Significa essere consapevole che quando noi significhiamo l'esperienza stiamo mettendo a punto queste quattro strategie. Chiudo con una chiusura che ci tengo moltissimo, perché io vi ho detto che poi tornavamo qua. Perché questa è importante? Perché ci piace questa ragazza con le orecchine di perla? Ragazzi, ricordate che vi ho detto tutte queste cose? Bene. Nell'ambito della teoria della complessità esiste un concetto fondamentale che è valido per il nostro apparato cognitivo, è valido anche per chat GPT, ma è valido per tutti i sistemi adattivi complessi. Cioè, il concetto è attrattore. Cioè, quando noi elaboriamo un concetto, noi abbiamo circa 86 miliardi di cellule neuronali e ogni neurone è collegato a circa 10.000 altri neuroni. Quindi immaginate il groviglio che ci sta. Allora, quello che accade quando noi comprendiamo le cose è che si sviluppano in una specie di tempeste cognitive. Cominciano tutto quanto a girare e avvorticare i segnali elettrici all'interno del nostro cervello, fino a quando arrivano a un punto di... Ho capito, ho visto il cowboy. Ecco. Quando noi vediamo un'immagine complessa non ci sta un solo attrattore, ma ce ne sono molti. Ce ne sono molti attrattori. Quello che noi facciamo quando stiamo di fronte ad un'opera d'arte è, come ho detto prima, dove non si butta via niente, noi siamo costretti a saltare da questo a questa sensazione, a quest'altra sensazione, a quest'altra sensazione. Cioè, sostanzialmente continuamente, diciamo, di fronte all'immagine della ragazza con l'orecchino di perla, e noi saltiamo da una sensazione all'altra. Finché succede una cosa importante nel nostro apparato cognitivo. Succede questo. Che creiamo quello che, nel gergo della complessità, si chiama iperciclo. Cioè, un attrattore di attrattori. Cioè, nel senso, creiamo una categoria più superiore. Cioè, nel senso, attraverso l'esperienza artistica noi siamo costretti a mettere insieme sensazioni diverse e anche contrastanti e quando diciamo è bello, quando diciamo è bello è perché riusciamo, senza anche saperlo perché, a mettere insieme tutte queste sensazioni contrastanti e a costruire l'iperciclo. L'iperciclo è proprio questo concetto fondamentale della complessità che significa un ciclo fatto di sottocicli. Cioè, qual è il nome che diamo a tutto questo? Non ce l'abbiamo ancora. Qualche critico d'arte un giorno lo inventerà e troverà un modo o no per metterli. Anche noi, quando dobbiamo dare un'esperienza complessa, siamo alle presse con lo stesso problema. Trovare il nome che mette insieme tutto. No, non è necessario. L'importante è essere convinti che siamo di fronte a un ordine multiplo che in qualche modo bisogna tenere presente, senza prendere una cosa e buttare il testo. Chiaro? Quindi questo è il vero insegnamento dell'arte. Quindi, vi voglio chiudere con questa frase di Scott Fitzgerald. Dice, il banco di prova di un'intelligenza di primo ordine è la capacità di tenere idee opposte in mente, qua molte ne ho fatte vedere prima, nello stesso tempo insieme di conservare la capacità di funzionare. Ecco, questa è la dimostrazione dell'intelligenza. Quindi il mio invito è questo. Allenatevi con l'arte alla complessità perché l'arte ci allena alla vita. E qua chiudo. Grazie. Grazie. Grazie.